Eppure io per la prima volta a 17 anni con un gruppo di scalmanati chiedevo alla signora Maria Teresa Mollo di darci questo cortile per fare uno spettacolo parrocchiale e questo posto è stato sempre accogliente ma soprattutto grazie all'Arceco Fraternita che ha avuto la tenacia anche in tempi duri e difficili, continua a regalare buona musica e anche alla tenacia di tanti artisti che nel corso degli anni, non dico si sono esibiti in tutte le 28 edizioni, ma quasi. Una c'è, Luisa. Grazie. Grazie a qualcuno che la sapeva più lunga di noi diceva non per chi comincia ma per chi persevera. Noi stiamo perseverando. E allora Mina, io ti nomino i vari artisti, tu dai loro una bella rosa, un bel bacio, una bella stretta di mano, quello che vuoi tu e li ringraziamo per la loro generosità perché un altro ringraziamento che mi premeva fare e Mina mi ha anticipato è proprio i nostri artisti e i nostri musicisti. Perché dedicano il loro tempo, la loro attenzione, la loro passione in periodo anche estivo alla nostra rassegna e questo non ne da poco. Quindi noi li ringraziamo veramente tanto, simbolicamente con una rosa ma veramente dal profondo del cuore. E quindi, incominciamo con il direttore della corale, il maestro Anna Maria Desposito. Scusate per le spalle ma sono talmente tardi, non so più come vi devo mettere. E poi il pianista, il maestro pianista, il maestro Raffaele Bormile. E il percursionista, il maestro Giovanni Vesciera. Eccolo là. E poi ti faccio fare la passerella Mina, venite a quest'altro lato con il bellissimo e bravissimo chitannista Luigi Vanna Cora. E poi le pianista è Maria Assunta Donatelli e Maria Vittoria Peru. E adesso facciamo così. Passo la parola ad Anna Maria che ci dice i nomi di tutti quanti i musicisti, i coristi in modo tale che poi... Allora Angela, voglio dire, il nervo di questo gruppo sono loro, cioè sono veramente insomma un coro fatto di tanti coristi, tanti coristi che lavorano insieme. Allora Angela Gargiulo, Arnonella Russo, Carla Perfetto, Carmelo Vero, Concetta Desposito, Lisa Stanita, Lucia Russo, Lucia Russo, Lucia Madesca, Maria Borgio, Mariana Gargiulo, Mariana, Maratelisi Eccolano, Patrizia Esprosito, Rosalia Desprosito, Sara Omero, Antonietta, Antonietta Ciampa, Lorenza Descasio, Lucia Gargiulo, Patrizia Versa, e Patrizia Eccolano. Poi... Eh, dietro perché ci sono i maschietti adesso. Lucia non l'ha avuta, l'ho chiamata. Perfetto, adesso passiamo ai maschietti. Giuseppe Ferraro, Massimo Castellano, Franco Mani, Raffaele Dordola, Luca Scempiglia e Giannino Gargiulo. Ci siete tutti? Grazie.